Dall'Europa, nuove opportunità per le nostre amministrazioni locali. Questa è la quarta edizione della Scuola Alta Formazione che il Consiglio organizza proprio per formare i giovani amministratori. L'Europa può essere una grande opportunità, soprattutto in un momento come questo di grande crisi economica, dove bisogna in qualche modo saper reperire nuove risorse per dare l'infa agli antilocali. Il semestre di Presidenza Europea può essere importante, ma ancora più importante sono andare a catturare con progetti concreti risorse che sono disponibili in Europa. Bisogna conoscere, bisogna andare al cuore dei problemi e soprattutto bisogna conoscere i meccanismi che regolano l'Europa e il suo funzionamento. Per questo è importante che i giovani amministratori conoscano per poter poi essere i protagonisti di una nuova stagione che si deve aprire in questa nostra regione.